Non si sale sul nuovo carro. Così il commissario provinciale della Lega, Gianfranco Giuliante, è intervenuto sull'alleanza tra il neocandidato sindaco di centrodestra, Carlo Masci, e l'Udc. La presenza tra le file dei democratici cristiani dei consiglieri comunali Riccardo Padovano, Massimiliano Pignoli e Giuseppe Bruno, appena fuoriusciti dalla maggioranza di centrosinistra alla guida della città, non è vista di buon occhio dal commissario provinciale di Pescara della Lega, Gianfranco Giuliante. La Lega chiede a Masci il rispetto di alcuni principi fondamentali, tra cui quello di non stringere alleanze con ex avversari politici. Per questo il Carroccio chiede l'esclusione dalla coalizione di esponenti che hanno governato con il centrosinistra guidato dal sindaco Marco Alessandrini. Dunque a Pescara potrebbe riproporsi il caso Scoccia Olivieri, già vissuto durante la campagna elettorale per le regionali, quando l'attuale governatore mise fuori coalizione proprio l'Udc, perché aveva tra le sue file candidati ex centrosinistra. Così come a febbraio, anche oggi il no della Lega fa il paio con quello di Fratelli d'Italia, che pur appoggiando in toto Carlo Masci, mostra contrarietà all'ingresso nel centrodestra dei tre consiglieri. Tutte grane che dovrà affrontare e risolvere il neo coordinatore provinciale dell'Udc di Pescara, Vincenzo Serraiocco, presente ieri alla conferenza stampa con la quale si è sancita alleanza con Carlo Masci. Con la candidatura di Carlo Masci condivideremo già nei prossimi giorni il programma, condivideremo con lui quelli che sono i punti più importanti per la città in modo da mettersi al lavoro il giorno dopo quando vinceremo con il centrodestra questa città di Pescara. Altro è che abbiamo una forza importante, oggi l'Udc è un punto di riferimento di questo consiglio comunale uscente e lo sarà ancora di più nel proseguo del 26 di maggio. Siamo certi di partecipare con forza al governo di questa città, senza veti, senza se e senza ma, ma sicuri che il nostro ruolo, il nostro preso all'interno di questo consiglio comunale sarà importante per noi, sarà rinascita per l'Udc a livello comunale e regionale ma sarà anche un punto importante per il governo di questa città insieme a Carlo Masci.